Buongiorno da Carla Clua con le previsioni del tempo di Arpal. Oggi giovedì tempo stabile su tutta la regione, da venerdì aumento della nuvolosità più compatta dal pomeriggio che si manterrà fino a sabato. Ecco il dettaglio, oggi giovedì 27 aprile l'alta pressione sulla penisola iberica porta condizioni di stabilità e cielo sereno sulla regione. Velature sparse in serata, venti meridionali deboli fino a moderati sui crinali di centro ponente, mare poco mosso, temperature stazionarie lungo la costa tra 18 e 21 gradi, nelle zone interne tra 19 e 22 gradi. Domani venerdì 28 aprile nuvolosità variabile medio alta la mattina su ponente, poco nuvoloso con locali schiariti a Levante, nuvolosità più compatta in aumento verso la sera, venti meridionali deboli moderati su centro ponente, mare poco mosso, temperature minime in aumento sulla costa comprese tra 10 e 14 gradi, nelle zone interne tra 6 e 10 gradi, massime stazionarie o in lieve calo sulla costa tra 16 e 20 gradi, nelle zone interne tra 18 e 21 gradi. Dopodomani sabato 29 aprile la mattina cielo coperto con nube più compatte a ponente, nuvolosità variabile a Levante, nel pomeriggio aumento della nuvolosità sul resto della regione con possibile piogge a carattere di rovescio sui rilievi, venti deboli meridionali da nord in serata, mare poco mosso in aumento a mosso a ponente la sera, temperature minime in ulteriore aumento lungo la costa tra 12 e 16 gradi, nelle zone interne tra 7 e 12 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 16 e 19 gradi, nelle zone interne tra 15 e 20 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito arpal.liguria.it, sui nostri social, sul canale Telegram e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!